In generale le storie scritte fanno una cosa grazie al linguaggio, cioè danno nomi a delle zone del vissuto, del sentire che noi conosciamo ma che non sappiamo in realtà definire più di tanto. Una delle aspirazioni di chi scrive è il fatto che rispetto a tutti gli altri umani che usano le cose per vivere, per lo più diciamo, lo scrittore come altri tipi di artigiano cerca proprio di entrare nel guscio e andare a prendere come fosse la pulsazione che c'è sotto la crosta e che la gente sente da fuori. E lì l'ambizione che tu faccia un ritratto, che tu scrivi un racconto, l'ambizione è quella di aprire in qualche modo questa crosta che ti dà la pulsazione, andare dentro e proprio prendere, strappare il cuore delle cose e portarlo fuori e metterlo davanti allo sguardo della gente che non lo potrà veramente toccare ma almeno lo vede.